In un'ora ti sei visto quanti, mille TikTok, hai la possibilità di vedere una quantità infinita di contenuti in pochissimo tempo. Cosa hai pensato di TikTok invece? Allora, TikTok, io purtroppo non l'ho capito, però allo stato attuale bisogna essere... Ok, boomer. Eh? Devo farti la domanda per dirti ok, boomer. No, ma non riesco a capire. Anche perché ora anche Instagram ha aggiunto i Reels, no? Che mi capitano spesso, ma io non li capisco. Cioè, non riesco a capire quale sia il contenuto di un balletto, dato che ora l'utenza di TikTok è abbastanza bassa, come età. Quindi capisco che possano essere molto più fruibili per i ragazzini contenuti del genere, piuttosto che video su YouTube. Anche perché ormai ci tendiamo ad annoiare rapidamente, quindi lì in un'ora ti sei visto quanti, mille TikTok, quindi hai la possibilità di vedere una quantità infinita di contenuti in pochissimo tempo. Una cosa che mi ha portato a fare una sorta di classifica mentale, te la dico quando mi dici cosa ne pensi, delle varie piattaforme di condivisione video. Allora, innanzitutto c'è da dire che YouTube, come Twitch, come TikTok, a tutti gli effetti sono una grande categoria di social network. Questo ovviamente non lo dico a te che lo sai benissimo, ma a chi ci ascolta. E come tutti i social network hanno come obiettivo quello di tenerti più incollato possibile, in modo tale da venderti più pubblicità possibile. YouTube è nato per contenuti tendenzialmente medio-lunghi, perché c'è stata un'era in cui si diceva fai video da tre minuti, fai video da cinque minuti, poi in realtà YouTube è diventato una specie di mini-cinema, e quindi ha privilegiato tantissimo i contenuti da 25-30 minuti, le mini-serie, le web-series. Twitch si è evoluto creando dei contenuti potenzialmente lunghissimi, perché puoi stare in streaming per ore e ore e ore, tra l'altro gli streamer che probabilmente guadagnano più denaro sono quelli che stanno in streaming come se fossero impiegati all'ufficio tal dei tali, quindi timbrano il cartellino alle otto del mattino, escono alle sei di sera, poi magari fanno la compazzata serale. Mentre TikTok è andato completamente con controcorrente, perché è nato come musical, quindi quello dei balletti, come dicevi te, ma poi si trasformate in una sorta di costruzione di frammenti di vite che vengono buttate per pochi secondi in pasto al grande pubblico. Quindi sono tanti frammenti di vita che te, mentre sei annoiato col ditino, swipei e ti becchi tutte le storie di vite contemporanee e di altre persone che come te fanno le loro cose. Non ti dà l'idea che sia una trasformazione progressiva del contenuto web a quello che è il reality show? Cioè è la stessa trasformazione che ha avuto la televisione. Il vero piace di più perché è più vicino al consumatore e la stessa cosa stia accadendo nel mondo dei social network del mondo video. Quindi YouTube resta un po' la vecchia televisione, mentre Twitch e TikTok il reality show. Sì, ma è quello che vuole la gente. Innanzitutto vuole vedere qualcuno più simile a lui, no? Quindi te lo senti più vicino. In più c'è sempre questa curiosità atavica, no? Nel voler sapere tutto quello che fa nella vita qualcuno. Anche con Instagram, con TikTok e con Twitch puoi farlo. Chiaro, anche perché si fondano tutto sulla costruzione di un personal brand. Cioè la faccia che ci metti e quella con cui viene riconosciuto. La community che empatizza con te ti segue e poi dopo diventano i tuoi fan, ma con un filo diretto con te. Quindi non intermediato, no? Nella televisione c'è la televisione. Non puoi chattare con chi sta di là della TV, anche se ci provano, con i canali WhatsApp, eccetera. Mentre su TikTok posso commentare, tu mi rispondi e quindi si crea questo percorso di univoco. Ciao!